Goku contro Jinyu Goku dopo aver sconfitto gli altri membri della squadra Jinyu si ritrova ad affrontare il loro capitano ovvero Jinyu scopre con grande sorpresa che il livello di combattimento di Jinyu si equivale al suo e che ha una potenza decisamente superiore rispetto a tutti gli altri membri della sua squadra Goku quindi decide di affrontarlo seguendo il consiglio di Jinyu ovvero di usare tutta la potenza di cui dispone Goku quindi decide di usare il Kaioken dimostrando a Jinyu che la sua potenza combattiva è superiore e gli consiglia di arrendersi ma Jinyu contrattacca con la tecnica dello sdoppiamento riuscendo a scambiare corpi quindi Jinyu entra nel corpo di Goku riuscendo a controllarlo come vuole grazie grazie grazie